Buonasera amici di Mixer Planet, sono Gianmaria Pagliaro, bartender presso i magazzini teatrali Palermo. Questa sera andremo a ricordare quella che è la ricetta di un grande classico della storia dei cocktail, ovvero il Between the Sheets. La tecnica di preparazione del Between the Sheets è shake and strain. Il primo ingrediente che andremo a inserire nel nostro cocktail è il succo di lime 20 millilitri. Il secondo ingrediente che andremo a inserire nel cocktail sono 30 millilitri di triple sec. Proseguiamo con sempre 30 millilitri di cognato. Infine, come ultimo ingrediente, andremo a inserire 30 millilitri di lime bianco. Andiamo a chiudere e shake and strain. Andiamo a concludere versando nella nostra coppa. Ecco a voi il Between the Sheets. Andiamo a concludere versando nella nostra coppa.